L'avvocato civilista palermitano Adriano Lapone, 39 anni, è stato sospeso dall'attività forense per un anno, dal provvedimento del GIP Elisabetta Stampacchi, accusato di avere attruffato alcuni clienti. Le indagini sono state avviate dopo le denunce delle presunte vittime e sono state condotte dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio De Montis. Secondo l'accusa, il legale si sarebbe fatto pagare senza portare a termine le cause, versamenti di denaro per svolgere attività processuali ed extra processuali, mai concretamente, affermano i magistrati, svolte procurandosi un ingiusto profitto. Oltre al divieto di esercitare la professione, il GIP ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Palermo, ma Lapone in passato aveva già avuto problemi con la giustizia. Qualche anno fa, infatti, era finito nei guai per esercizio abusivo della professione forense.